amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati è una notizia possiamo dire quasi in anteprima ma ormai è di dominio o comune e quindi partirà il primo novembre durerà due anni la fase di preparazione dell'euro digitale lo ha reso noto la bce e con delle affermazioni anche delle comunicazioni cristian lagarda che dopo magari comunicheremo e commenteremo avremo tutti un conto in banca d'italia funzionerà come un banco mat la fase diciamo di rodaggio di preparazione inizierà con l'anno nuovo l'introduzione dovrebbe divenire operativa nel 2026 parliamo di questa novità e spieghiamo che comunque il tutto ha una genesi già da lungo tempo assieme a davide rossi ciao davide per ritrovati ben ben ritrovato a te allora è la notizia del giorno questa direi siamo siamo a un punto diciamo a un punto di approdo che a sua volta è un punto di partenza noi ne abbiamo già parlato infatti nelle nostre incontri anche una puntata ricordo con legno caruccio e dove siamo entrati proprio nel merito di cosa significhi questo e questo cosa siano queste valute digitali l'euro digitale del loro digitale eccetera come possono impattare nelle nostre vite nelle nostre economie personali e quindi diciamo diamo per scontato un po tutta una fase che abbiamo già trattato di cosa vogliono dire e adesso siamo in una fase di avvicinamento all'introduzione perché christine lagarde ha annunciato l'altro ieri che dalla fase di studio durata circa due anni siamo adesso entrati in una fase nuova di preparazione quindi vuol dire che fondamentalmente si è deciso che si farà e si e ci prende altri due anni quindi entro il inizio il 2026 quindi quasi tre per studiare e approntare l'euro vero e proprio per cui in questa fase si cercheranno quelli che saranno i fornitori del sistema informatico su cui si peserà l'euro digitale e tutte le altre questioni tecniche che consentiranno a questo strumento monetario nuovo di essere poi nella terza fase operativo quindi i tempi non sono brevissimi sono medi le banche da questa operazione le banche commerciali private vengono ridimensionate in prospettiva strano ridimensionate perché questo euro digitale vorrà dire che ciascuno di noi avrà un account presso la banca centrale e un wallet portafoglio digitale la banca della banca d'italia presso la banca di questo caso la banca d'italia fra l'altro c'è da dire che la banca d'italia tra e anche il governo italiano attraverso la figura di fabio panetta svolge un ruolo fondamentale nella costruzione dell'euro digitale è stato comunicato che le varie banche centrali nazionali e anche i governi nazionali hanno dato il loro ok a questa operazione anche il governo italiano e dicevo ci sarà quindi una centralizzazione nelle in questo caso nella bce per ciò che riguarda i governi dell'area euro e quindi le banche commerciali private vedranno un po ridimensionato il loro ruolo abbondantemente anzi ridimensionato perché il rapporto sarà direttamente fra il cittadino o l'azienda e la bce questo non vuol dire che il ruolo delle banche commerciali private verrà totalmente e immediatamente stravolto ma che un po alla volta queste banche vanno a essere ridimensionate di fatti c'è un rapporto di medio banca e il quale dice che alcune banche hanno mostrato una contrarietà a questa operazione ma la maggior parte del sistema bancario che ovviamente non dimentichiamo mai che azionisti importanti delle varie banche centrali sono le stesse banche commerciali private quindi più che altro stanno studiando e mettendo appunto quelle che sono le opportunità e cambiamenti necessari da parte delle banche commerciali per adeguarsi a questo stravolgimento sono scusami davide ci sono le stesse banche commerciali no che stanno o stavano valutando l'introduzione di un loro moneta elettronica no infatti secondo me è una delle delle cose che a me non piacciono di questa decisione dell'euro digitale è il fatto che è una manovra una contromossa delle banche centrali per impedire la concorrenza monetaria ad esempio paypal aveva annunciato una sua stable coin quindi non una moneta digitale che avrebbe messo in circolazione fra propri clienti e quella oppure pensiamo ai bitcoin o le altre cripto valute la introduzione dell'euro digitale che ovviamente sarà l'unica che avrà un valore legale forzoso così come già oggi per la per l'euro cartaceo o elettronico e tende a limitare fortemente la concorrenza fra monete fra monete nuove e quello uno degli obiettivi uno degli obiettivi di questa decisione è quella di contenere di continuare anzi a far sì che le banche centrali detengano una sorta di monopolio sull'emissione di moneta sul controllo della moneta in circolazione quindi va sì rispondendo alla tua domanda a stoppare le valute digitali emesse da enti privati tu pensi che saranno verranno effettivamente stoppate o avranno comunque modo di farle circolare ugualmente io credo che quanto come reazione quanto più un pianificatore centrale cerca di rendersi monopolista tanto più comunque ci saranno delle alternative ma queste alternative ovviamente il legislatore può renderle particolarmente difficoltose da utilizzare o meno difficoltose la tendenza credo che sia a renderle più difficoltose possibili a mantenere le proprie mani da parte dei banchieri centrali e anche dei governi il monopolio nella gestione del denaro in circolazione ci dicono nel nell'annunciare questa novità dell'euro digitale la seconda fase dell'euro digitale che continuerà ad esserci il contante quello cartaceo non andrà a sostituirlo andrà affiancarlo in quello che ci viene detto in questa fase ma noi abbiamo abbiamo ormai imparato che quello che ci viene detto nella prima fase poi una seconda fase può essere cambiata una volta che tu ti abitui quello che oggi è ci viene venduto come volontario perché di fatto ci viene venduto come volontario per lo meno nella per noi spenditori di questa moneta perché invece per chi deve ricevere questa moneta quindi i negozi commercio al dettaglio e anche gli commerce diventerà obbligatorio accettarla quindi non potrà non potranno rifiutarla quindi per loro è già obbligatorio cioè lo sarà quando saremo nella terza fase e nella adozione completa di questa moneta per noi quindi per coloro che dovranno utilizzarla in questa fase ci viene detto che è sarà facoltativo non andrà a sostituire il contante ci viene anche detto mi ha colpito nel leggere documenti anche della bce che viene definito questo euro digitale efficace e sicuro e gratuito ma noi sappiamo che questi sono termini della neolingua no poi ormai noi siamo prevenuti e prevenuti a causa loro no a causa che noi siamo diffidenti per natura no ma questo sì in più l'efficacia e sicuro gratuito a me ha ricordato tanto il vaccino sì ecco inevitabilmente esatto poi come c'è stata anche un'affermazione della lagarda appunto rilacciandomi a quello che dicevi un attimo poco fa il contante sarà sempre disponibile affinché nessuno rimanga indietro ecco sarà sempre disponibile fino a quando sarà disponibile però no come si dice no le cose sono per sempre finché durano no ecco quindi finché nessuno rimanga indietro ecco questo sempre disponibile secondo me è tutto da interpretare e poi le fonti di chi le afferma queste cose si è guadagnato abbondantemente in questi anni la nostra diffidenza no anche perché anche perché intanto diciamoci che i cittadini si sono già abituati a non utilizzare il contante la gran parte tant'è che il contante che viene utilizzato ormai è in costante diminuzione il contante circolante e utilizzato è in costante diminuzione se ci aggiungi che notizia dei giorni scorsi che ad esempio il comune di roma per quello che riguarda i pagamenti da fare da parte del cittadino al comune marche da bollo per certificati pagamenti di servizi eccetera già oggi pochi giorni fa ha comunicato che non accetterà più contante e quindi i pagamenti anche per importi di poche euro dovranno essere fatti con bonifici o con carte di credito per cui si dice non è obbligatorio ma se poi un pezzo alla volta quelli che devono riceverlo non lo vorranno più tu sarai obbligato a utilizzare solamente denaro elettronico e in prospettiva questo euro digitale senti per quanto riguarda la privacy perché viene raccomandata l'introduzione di una soglia di privacy per le transazioni online al di sotto delle quali non vengano tracciate cosa cosa ne pensi tu al riguardo ma io su queste garanzie sulla privacy non ho più fiducia non dopo quello che abbiamo visto in questi anni dopo che ci hanno martellato sull'importanza della privacy ci hanno costretti nella nostra attività professionali e anche nella nostra vita di consumatori a riempire decine centinaia di pagine riguardanti la privacy perché ci dovevano tutelare poi abbiamo visto invece che quando c'è l'emergenza e ormai l'emergenza c'è in via permanente della privacy non ci si fa proprio nulla quindi le dichiarazioni di principio sulla privacy di questa moneta valgono come la stessa cosa della quello che dicevi prima delle cose che sono sicure insomma sicure gratuite ecco secondo te potremmo andare invece verso una fase di decentralizzazione delle valute perché questo sarebbe un aspetto molto interessante secondo me una prospettiva molto interessante ora questa iniziativa dell'euro digitale va nella direzione opposta va nella direzione di centralizzare più possibile perché noi in questo momento viviamo in un sistema bancario finanziario dove in realtà la maggior parte del denaro in circolazione è emesso dalle banche commerciali quando erogano prestiti o mutui creano denaro quindi la filiale bancaria della più sperduta frazione della provincia italiana in questo momento crea denaro quando eroga prestiti non è che li va a prendere nella sua cassaforte e ce li da li crea al computer la maggior parte del denaro in circolazione in realtà oggi più che dalle banche centrali è creato delle banche commerciali private la banca centrale vuole ridurre questo fortemente questo che vuole avere un controllo più capillare sul denaro e quindi cerca di togliere di ridurre progressivamente quanto più possibile il denaro che è emesso dalle filiali bancarie e e lo emette lei quindi questo è un processo di centralizzazione come dicevo prima quanto più il potere costituito cerca di centralizzare il potere tanto più di solito la storia ci dice che sorgono iniziative private non convenzionali che tendono invece a sfuggire a questo controllo esempio bitcoin risponde a questo requisito bitcoin è una moneta elettronica che punta tutto sulla decentralizzazione e quindi non c'è un'autorità centrale che ha il potere di emettere la moneta e di controllare nella circolazione ma c'è un sistema completamente diverso che tratto qui su questo canale ha spiegato più di una persona fra cui lo stesso egno caruccio in passato e bitcoin in questi anni ha preso molta forza al di là di come la si pensi so che c'è anche molta comprensibile diffidenza da parte di chi ci ascolta sulle cripto valute compresa bitcoin e però sta di fatto che in questi anni bitcoin è cresciuto tanto sia in termini di conoscenza presso il grande pubblico sia anche di utilizzo e anche come riserva di valore quindi sempre storicamente quando il potere cerca di centralizzare partono anche iniziative di decentralizzazione si e da questo e di questo questo senso abbiamo proprio notizie che sicuramente le iniziative non mancheranno anzi in questo senso qui potrebbe rivelarsi e dovrebbe rivelarsi probabilmente in futuro una grande opportunità proprio per acquisire invece totale indipendenza e con tutti gli effetti positivi che questo riguarda ma è un tema questo che prenderemo inizieremo a trattare a breve sicuramente con l'inizio del nuovo anno perché questo è un tema troppo importante piaccia o non piaccia questo è un tema troppo importante troppo fondamentale per snobbarlo questa qui siamo nell'ambito proprio del servizio di informazione presso tutti presso per per voi insomma per voi amici ascoltatori quindi è un tema è un tema troppo importante quindi lo tratteremo con veri e propri esperti del settore senti davide volevo farti un'ultima domanda quindi il per quanto riguarda le banche commerciali tu vedi un notevole ridimensionamento si dovranno debbono stanno già facendo reinventarsi e questo ridimensionamento questo reinventarsi non è legato soltanto alla novità dell'euro digitale che avremo fra un po di anni ma tutto il mondo del fintech tutto il mondo dell'innovazione tecnologica tecnologica legata alla finanza sta rendendo le banche naturalmente per chi ha di mistichezza con questi strumenti che sono soprattutto i giovani quindi i futuri prossimi futuri clienti del mondo finanziario sta rendendo obsoleto il mecriso bancario che è sempre più lento sempre più burocratico ci sono strumenti che ripeto oggi già largamente utilizzate le persone molto giovani mattini digitali strumenti finanziari che consentono di fare operazioni anche di una certa rilevanza in maniera molto più snella e veloce anche a livello di finanziamenti quindi io credo che le banche perlomeno quelle più attrezzate da tempo stanno progettando il loro futuro il loro e ripensare se stesse per essere competitive in un mercato finanziario tecnologico che sta rapidamente cambiando quindi non è solo l'euro digitale che le renderà meno importanti o perlomeno le costringerà a ripensarsi è tutto il mondo dell'innovazione tecnologica legata alla finanza che le sta rendendo così come sono oggi obsolete e aggiungo rispetto a quello che tu stavi dicendo sulle opportunità che io è vero che noi giustamente denunciamo quali sono i rischi legati all'euro digitale quindi la la un controllo ancora più capillare sulle nostre vite la possibilità che l'accesso per noi ai nostri soldi possa essere addirittura spento nel caso in cui il sistema decida di fare questo a differenza dell'avere il denaro in tasca quindi io sono un forte sostenitore del denaro contante ritengo come detto anche altre volte che sia veramente l'ultimo metodo di libertà monetaria a nostra disposizione ma siccome sono processi questi che sui quali noi possiamo incidere fino a un certo punto comunque con l'euro digitale se loro riusciranno nei prossimi anni a fare i passi che debbono fare parliamo comunque di anni ancora e io penso che abbiamo davanti ancora almeno 5 6 anni prima che l'euro digitale diventi effettivamente una normalità nelle nostre vite noi abbiamo anche noi come abbiamo detto gli istituti bancari la possibilità di organizzarci da questo punto di vista di studiare per questo che l'informazione importante noi dobbiamo sempre di più credo sganciare l'informazione che facciamo cioè renderla meno ansiogena questi cambiamenti di cui noi parliamo il nostro servizio non è tanto per allarmare le persone ma per far sì che le persone siano informate in maniera anche fredda se vogliamo e organizzare la loro vita poi di conseguenza cioè essere consapevoli dei cambiamenti che stanno venendo avanti e avere il tempo di studiarli di prendere confidenza con questi cambiamenti e cercare di cogliere quelle opportunità che dentro il cambiamento ci sono sempre in particolare come tu dicevi il rendersi autonomi del sistema questo vale per l'energia abbiamo parlato abbiamo accennato forse dovremmo approfondirlo in una puntata con l'ingegnere castellucci certo e questo vale anche per il mondo finanziario noi quello che sta avvenendo deve indurci a essere sempre più attrezzati per essere autonomi del sistema e quindi essere più liberi alla fine sì e su questo ritornando proprio al tema delle valute digitali ci sono ribadisco delle notizie molto interessanti anche positive che avremmo sicuramente opportunità di approfondire anche con puntate a cadenza per proprio per renderci indipendenti dal sistema questa è una cosa che ci teniamo particolarmente a fare perché proprio oltre all'informazione proprio un servizio che noi vogliamo di informazione ma di proprio anche come modalità per poterlo fare per poterlo rendere operativo è un servizio che riteniamo fondamentale per tutti i nostri amici ascoltatori direi che per il tema oggi siamo abbiamo fatto proprio il punto della situazione in qualche modo prima parlando di finanziamenti hai evocato il tema della prossima puntata perché davide sarà con noi anche domenica perché parleremo di mutui di acquisti di case che nell'ultimo nel primo semestre della 2023 sono crollati rispetto al 2022 quindi faremo un'analisi su questo perché questo è lo specchio proprio la proprio la situazione la rendicontazione plastica della dell'andamento dell'economia e della situazione economica e patrimoniale di noi italiani delle delle famiglie quindi ci diamo appuntamento a domenica per ora grazie a davide rossi grazie 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 a tutti voi amici ascoltatori a domenica grazie a tutti